E ciao a tutti quanti, oggi visto questo grande evento, oggi è 13 agosto, c'è stato questo grandissimo evento 13 agosto? No, 13 settembre Ossia possibilità raddoppiate 60% di bonus sull'acquisto e oltre a questo le gemme bonus verranno contate per aprire le uova Quindi dopo questa triade di eventi, io e io abbiamo deciso di comprare qualche gemma e di vedere se uscirà veramente emoltanica Questo è il suo account, è la prima parte del video e ora vedremo cosa uscirà Guardate che ho 13 chance rimanenti Perché 13 chance? Non avevo idea Non dovevano essere 13 però Dovevano essere 20 Maledetti Maledetti Sono solo un altro, non lo... sono escluse Ma come? Ma prima c'erano incluse Maledetti, perché? Per esempio se comprate con la promozione... ma cosa mi fate a me? Va bene, abbiamo meno tentativi però... E vabbè Ce la facciamo lo stesso, dai Ma sì, però comunque le possibilità raddoppiate quindi... Ok Allora Proviamo Oh oh, 50 frammenti 50 frammenti 50 frammenti 100 gemma Io non li voglio i do 150 gemma Moltenica Eh, no 40 frammenti La stessa cosa 40 frammenti 1000 do Ah Vediamo un po' 100 gemme Oh, l'ultima chance Quale facciamo? Questo 40 frammenti 40 frammenti Niente moltanica Eh, vabbè Comunque hai ricevuto un sacco di premi Ah, sì, sì Vogliamo andare alla ricerca del Dukazuka? Eh, sì Dai Rolliamo, rolliamo, rolliamo Ma... Si, si, fai ok Sì, sì Bla, 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 bla Wow Ok Ok Faccio dopo, faccio dopo, faccio dopo Non è per la monco se poi sai già quanto ti rimane Ma se poi c'ho una carta cambia talento Vai, come vuoi Preferisco aspettare Se lo sai la gelatina è più slot C'è ragione pure tu No, scherzavo Ok Questa vacante La diamo Al mio Spiritello Appena arrivato Che ha un talento che fa schifo Cioè Per favore Vabbè Sì, dai Oh Oh, che culo Hai visto? Che? Ma? Ok, ora possiamo fare Oh, guarda, sicuro Mi sento fortunata Come Google Allora Con Google Con Google ho detto, con la G Allora, la leggenda dice che si trova con i tiri da uno Però abbiamo visto che con un tiro da tre ne sono stati trovati due una volta Ma Oddio E cosa faccio allora? Quello che vuoi Ah Troviamo con tre Uh, paladini Odio i paladini Io non li voglio i paladini Io ho 150.000 Ok Ok Dukazuk No Dukazuk No Prova da uno magari Ah, Dukazuk Allora Facciamo un po' di sacrifici generici Ma come è bello il mio stregone Come si chiama lui Con Fai Tutto aggiunto Fai Sì Vai Ancora, tutti li devi usare Eh, li ho usati tutti Io sono ciecata Ne ho usati cinque Che sto scema Scusate, l'emozione L'emozione Di tutte queste cose insieme Rialimazione cinque Scusate Allora Oddio Sono molto molto emozionata Comunque Ok Dukazuk No Dukazuk 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 Ehi Ho detto Dukazuk Non proprio Perfetto Dukazuk E' il mio ragazzo E' il mio ragazzo Gazz Vediamo che skill ha Il mio ragazzo Non ce l'ha Per curiosità Vediamo un po' Per curiosità E' uno su cinque Buono, buono Beh, si dai Però Adesso Sì, sì, sì Assolutamente Sì, sì, assolutamente Ma il meditore Con calma E per favore Dukazuk 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 Questo trucco funziona Dovete urlare Dukazuk Dukazuk E poi yes Aspetta Facciamo una per la scrive Ma La mandiamo a qualcuno A Empire Bravissimo Yeah Sai che talento ha Eh, però C'è da dire Che il mio ragazzo Mi stava abbracciando Vedi Questa cosa Funziona Adesso Cambiagli subito Oh, di corsa Adesso Regenerazione 5 Non cambia No No Qualcosina Almeno 2 Esatto Ma perché Buono, buono Prendi Sì, però è 1 Eh sì Ma è meglio di niente Sì, sicuramente Ma è bello Il mio Dukazuk Dai, dai Presto Sto tremando Ok Wow Ma Non hai avuto molta nica però Guarda Mi accontento Assolutamente Non c'è problema Io te l'ho detto Vuole quel Dukazuk Vai, vai Cambia il talento Come cambia Ah sì È giusto È vero Perché adesso Il Dukazuk Esatto No Colpo pesante Ma perché tutti uno Dai Hai altri 9 rollati 8 7 6 5 4 Cosa cambia Non lo so Non lo so Vabbè In effetti Sono tutti 2 Io direi Prendi furia 2 Sì Almeno è più Oppure tu avevi furia 2 All'inizio Sì All'inizio ho trovato questo Mamma è bellino E altri 4 tentativi Proviamo Dai Tanto No Mamma mia Che culo di merda Rotta in culo Che non sei Guarda là Mamma mia Assurdo Due volte In generazione 5 Non ci credo Ma perché due volte È perché pure allo spirito Ah no Lì c'ho rianimazione 5 Wow Che culo rotto Mamma mia Sì però Ti sto riando No Non è vero Mi ami Wow Tu non ce l'hai Questo Tu non ce l'hai Questa roba qua Dai dai Che la giornata è buona Adesso tocca a me Vai 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 Scusate per le grida Di emozione Ok vabbè Poi Vabbè Adesso passo la parola Al mio ragazzo Al mio ragazzo Mi presenterò con il secondo video A presto Ah eccolo qua